fare marketing con i libri su amazon alcune cose a cui non hai mai pensato i dati dicono che durante la pandemia è aumentato il numero di persone che leggono gli ebook non starò qui a spiegarti come pubblicare i libri su amazon ti basta una ricerca e trovi migliaia di video che te lo spiegano sono qui per farti passare il concetto delle book come cavallo di troia un mezzo che offre e forma l'utente e che può essere infarcito di riferimenti al tuo business ricorderai la storia del cavallo di troia che permise ai greci di espugnare la città ecco l'ebook può essere quella cosa che ti permette di entrare facilmente nella mente e nel sistema decisionale del cliente amazon offre molti modi per guadagnare online non parlo della vendita di prodotti puro guadagno generato online senza aver bisogno di un magazzino o prodotti fisici sto parlando di guadagnare vendendo ebook libri in formato digitale esistono diversi modi per guadagnare con gli ebook su amazon numero uno scrivi e vendi un ebook leggibile su kindle se fai bene il lancio ottieni il giusto numero di recensioni ed hai scelto la giusta nicchia allora il libro inizierà a vendere un numero di copie giornaliere questo ti garantirà una rendita passiva e questo ciclo può durare anni numero 2 vendi i libri di altri tramite il sistema di affiliazione di amazon se hai un sito oppure fai video o hai una community allora puoi consigliare ebook presenti su amazon la consegna immediata se riesci a fare i numeri allora avrai un guadagno garantito e senza pensieri numero 3 se scrivere non è il tuo forte allora puoi vendere libri vuoti su amazon cosa intendo per libri vuoti tutto quel materiale cartaceo utile ma che non è narrativa agende block note diari oppure libri che servono ad insegnare ai bambini a scrivere le lettere ricalcabili eccetera eccetera ma il metodo di guadagno di cui sto parlando è diverso si tratta di fornire gli ebook gratuitamente dare delle informazioni al potenziale cliente che poi si rivolgerà a te per il servizio il libro crea autorità il libro non si butta il libro è il tuo biglietto da visita nel libro tu sei la star logicamente tutto questo va fatto con logica se questo video ti è piaciuto allora condividi e metti like e ricorda di iscriverti al canale